ciao 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 cattolica se sentite sono un po coi piedi nell'acqua facciamo una passeggiata qua su pagliasciuga allora cosa che volevo dire? ah che oggi vado a fare un giro in barca dopo insomma dai ragazzi dopo vediamo se riesco a riprendere qualcosa del giro in barca abbiamo pensato oggi pomeriggio di fare questo bel giretto in barca e vediamo un po insomma andieremo ah andiremo italiano perfetto italiano perfetto allora andremo al parco Sant'Una parco naturale di San Bartolo così e poi non vi ricordo più di come fare questo giro dopo mi sembra vedremo vedremo e magari riprenderò qualcosa dalla barca dai ok comunque facciamo vetro march perché dopo io dovrò andare verso di là quindi per andare a prenderla la barca qua insomma e dall'altra parte quindi visto che sto andando da tutt'altra parte ritorno alla casa base ritorno nel mio sdraio che dopo ci andiamo ci andiamo dopo perché alle quattro quattro e in quarto quattro e in quarto un lavoro del genere deve essere la insomma che ci sarà il giro no? un giro poi di solito suona la campanella senti din 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 suon la campanella della barca e niente e quindi faremo questo giretti in banca l'ho già accendente 10.000 volte che faremo questi giretti in banca vabbè sono un po' ripetitivo e ciao a tutti da questo video ciao